Affluenza davvero molto bassa a Brescia per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di quartiere, organismi consultivi istituiti dalla loggia dopo che erano state abolite le circoscrizioni. L'idea era quella di mettere in piedi un organismo in grado di ascoltare le esigenze degli abitanti avvicinandoli a palazzo e viceversa. Ma pochissimi cittadini hanno deciso di cogliere questa opportunità e ieri alle urne si è recato poco più del 10% degli aventi diritto. Ma queste elezioni hanno comunque portato Brescia alla ribalta nazionale. Fra i candidati ammessi c'era infatti anche Talat Choudridoga, 43enne pakistano. Si tratta dello straniero che era finito al centro di polemiche per una foto pubblicata sul suo profilo Facebook con un kalashnikov tra le mani. Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, aveva chiesto un passo indietro all'uomo che però aveva deciso di mantenere la sua candidatura. E' una foto vecchia fatta in Pakistan al matrimonio di mio fratello, spiegò l'uomo che è sposato con una donna italiana e vive a Brescia da 20 anni. Ebbene Talat è stato eletto per un soffio con 68 voti e siederà nel consiglio di quartiere di Porta Cremona, insieme a lui un altro pakistano che ha raccolto 170 preferenze.